Le tendenze sartoriali del 2017 sono sicuramente caratterizzate poi dallo stile che ogni azienda propone per la nuova collezione 2017, quindi tutte le aziende da sposa che noi rappresentiamo all'interno del nostro atelier hanno ognuna una propria impronta, un proprio stile, quindi da Pronovias, Atelier Me, Valentini, Nicole, ognuna è caratterizzante per la propria impronta che dà la propria collezione, quindi poi è la sposa che sceglie quello che sarà il suo stile e la sposa che farà tendenza. Da Marisa Sposa troverete sicuramente quello che è il risultato di 25 anni di lavoro, anche di più, dove Marisa segue le sue spose nella scelta, più che nella scelta quelli che possono essere i consigli, nelle personalizzazioni, nelle modifiche, quindi negli accomodi sartoriali, perché c'è una sartoria con più di 7 ragazze professioniste che a livello di ricamo cercano di rendere la sposa perfetta, emozionati con emozionando.